Reggio Emilia è nota al mondo per tante ragioni, certamente potremmo ritornare a quel 7 gennaio 1797, in cui nell'attuale sala del Consiglio Comunale, la sala del Tricolore, nacque la Repubblica Cispadana, fu il primo atto di un percorso che ha portato progressivamente questo paese all'unità d'Italia, alla Repubblica, alla democrazia e lì nasce il Tricolore e da lì anche le ragioni per cui Reggio è ricordata anche come città del Tricolore. Ma Reggio Emilia nella sua storia è stata progressivamente tanto altro, è una città che ha saputo dopo il dopoguerra uscire da una condizione di miseria e diventare una delle realtà economicamente più dinamiche d'Europa, con un sistema economico molto importante, molto innovativo, fortemente orientato all'esportazione sui mercati mondiali. È una città però che ha progressivamente accompagnato durante tutto il Novecento è una costruzione di un importante sistema di politiche pubbliche sui servizi alle persone. È nota al mondo, come sappiamo, per la sua educazione nell'infanzia, per la sua cultura dell'infanzia, sul modello del Reggio Approach, ma anche per i servizi di welfare, per la sanità, quella sanità che ci sta aiutando in questa fase storica a gestire il Covid e a uscirne progressivamente. Ed è una città che però non ha mai smesso, pur mantenendo un solido legame con la sua storia, con la sua memoria, eppure anche città medaglia d'oro della Resistenza, non ha mai smesso di avere una fortissima tensione sul futuro, sull'innovazione e sul cambiamento. Credo che possiamo tranquillamente affermare che il modello stesso di sviluppo della città negli ultimi dieci anni ha subito una progressiva trasformazione. Indubbiamente uno degli elementi fondamentali che ha caratterizzato e accompagnato questo cambiamento costante e questo rilancio continuo sul futuro è stata l'idea della rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana ha portato con sé la riqualificazione di tantissimi luoghi, di tantissimi contesti della città, ma inevitabilmente ha portato con sé anche una rigenerazione delle relazioni sociali all'interno di quei contesti. Penso che l'operazione più importante di rigenerazione urbana sia stata il fatto di prendere di petto l'area, la grande area delle ex officine reggiane dove a suo tempo lavorarono addirittura 13 mila persone, era la grande fabbrica per eccellenza che costruiva i treni, gli aerei, una delle più importanti fabbriche italiane su cui oggi insiste un parco innovazione, un tecnopolo, un parco scientifico che tiene insieme tanto la dimensione della ricerca in campo scientifico quanto in quella umanistica, che ha in sé un elemento di fortissima opportunità di trasferimento tecnologico all'intero territorio, all'intero sistema economico e sociale. All'interno dell'area delle ex officine reggiane vi è il parco innovazione, ma vi è anche di fronte il centro internazionale Malaguzzi, cioè la sede di Reggio Children e del Reggio Approce e quello però non è l'unico luogo che abbiamo rigenerato progressivamente in questi anni. È in corso un'importante trasformazione del campo volo che è diventato ormai la più grande arena della musica d'Europa, ma un'importante operazione di rigenerazione ha caratterizzato per esempio il parco della reggia di Rivalta nell'ambito del più ampio progetto del Ducato Estense e tanti luoghi dello stesso centro storico. Siamo partiti dal Teatro Ariosto, stiamo per riconsegnare un museo riqualificato, rilanciato e nei prossimi mesi la Sala Verdi, un'altra importante sala civica e storica di questa città chiusa da 30 anni verrà riconsegnata alla città, ma potrei anche dire della residenza dell'Ariosto, il Mauriziano, sono tutti luoghi che hanno avuto un importante lavoro di investimento pubblico, di recupero, di valorizzazione, di restauro, di rigenerazione. Questo ci dice anche di come l'educazione e la conoscenza e la cultura siano stati in questi anni uno dei motori fondamentali del modello di sviluppo di questa città. Abbiamo lavorato però in questi anni non soltanto gestendo la contingenza e chiudendo progetti, ma lo abbiamo fatto con una visione anche sul lungo termine, in particolar modo guidati dagli obiettivi dell'Agenda 2030 con le quali si misurano come target fondamentali di riferimento tutte le migliori città europee. Siamo anche all'interno di un importante progetto europeo, Shaping Fair City, che si propone proprio di lavorare nella direzione degli obiettivi di Agenda 2030 e quindi tutti i nostri obiettivi, dall'educazione alla cultura, all'economia, in particolar modo alla sostenibilità ambientale, sono stati progressivamente indirizzati verso un perseguimento di obiettivi e di risultati che non guardino soltanto al breve termine, al medio termine, ma anche ben oltre il nostro stesso mandato amministrativo. E qui siamo ai Chiostri di San Pietro, che io penso sia per certi versi uno dei simboli di questa nuova città che sta nascendo, di questa innovazione, di questo rilancio sul futuro. Il Chiostri di San Pietro ha una storia particolare, intanto perché è un chiostro benedettino, i benedettini hanno contribuito all'Europa contemporanea e quindi è del tutto evidente che per noi la rigenerazione, il recupero e la valorizzazione dei Chiostri rappresentano anche il modo con il quale Reggio Emilia si proietta in Europa, si configura come città contemporanea, come città aperta, come città innovativa, come città europea. Che cosa accade ai Chiostri di San Pietro? Certamente è un luogo di cultura, di incontro di tantissimi linguaggi artistici, culturali, la fotografia europea, le mostre, la musica, la danza e tantissimo altro. Però i Chiostri sono stati anche un luogo di innovazione sociale, di incontro con l'importanza del protagonismo civico e del volontariato di questa città. Credo che la sintesi di tutto questo stia nel protagonismo delle persone, dei cittadini che hanno contribuito ad accompagnare la storia di questa città fin qui e a configurare una qualità della vita tra le più alte d'Europa, un particolare stile di vita che credo sia poi alla fine quello che ci contraddistingue, ci distingue nella nostra originalità, nella nostra e nella nostra autonomia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.